Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino dei frati minori Cappuccini. Vogliamo parlarvi del grande amore che Padre Pio aveva per i suoi confratelli. Sappiamo che Padre Pio temeva il contatto con la folla perché spesso la gente, nel tentativo di toccarlo, certamente senza volerlo gli faceva male. Allora Padre Pio desiderava che al termine delle confessioni, quindi nella chiesetta antica, vediamo tante foto, tante immagini, al termine della confessione con le donne, lo affiancassero dei suoi confratelli proprio per, tra virgolette, proteggerlo dalla folla. Tra questi un giorno c'era proprio il cappellano dell'ospedale di casa sollievo della sofferenza che era Padre Innocenzo, Padre Innocenzo che è deceduto qualche anno fa oltre i cent'anni. Nel momento in cui lo stava riaccompagnando in sacrestia, Padre Innocenzo, inavvertitamente, chiaramente proprio per proteggerlo, urtò il viso di una figlia spirituale, Margherita Cassano, proprio per farsi spazio, l'ha presa in pieno volto. Qualche giorno dopo proprio la figlia spirituale si andò a confessare da Padre Pio e gli spiegò Padre, per il comportamento troppo zelante di Padre Innocenzo, lui mi ha dato una manata in faccia. Io sono stata male perché insomma per qualche giorno ho avuto il viso un po' malridotto, aveva proprio un segno Margherita. Padre Pio stette un attimo in silenzio, poi la guardò e disse che ti voglio dire. Lui sapeva che questa era una figlia spirituale molto buona, ma un po' forse permalosa, racconta Padre Marcellino nelle sue testimonianze, e disse che ti voglio dire figlia mia, denuncialo. Al che subito Margherita ribatte e disse questo mai, denunciare un sacerdote non lo farei mai, rispose. E poi Padre Pio con energia ribatte e disse qui ti volevo. E allora dov'è la carità? E soggiunse. E poi sappi che noi, indicando proprio lei e lui, disse proprio così, noi siamo in Cristo e quindi quelli, facendo riferimento ai frati, mi appartengono. Cioè lui aveva un amore particolarmente forte verso i suoi confratelli, la sua famiglia. Come a dire, lui disse, fanno parte della mia carne. La risposta di Padre Pio, detta proprio con profonda umiltà, ma anche con grandissima consapevolezza, mostra così la ragione per cui egli metteva i suoi confratelli al primo posto, nel suo quasi obbligo di amare. Padre Pio non ostentava il suo amore, ma lo presentava come un obbligo, un duvere dal quale non poteva esimersi.